Buonasera e benvenuti al DR di Papa Francesco, benvenuto Emanuela Duccioni, biblista, insegni all'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana. E saluto collegato con noi dal nostro studio di Gerusalemme, padre Francesco Patton, custode di Terra Santa, benvenuto. Parliamo di Settimana Santa, Emanuela, che è il tempo che stiamo vivendo. Tu hai appena scritto un libro titolato La Settimana Santa a un concentrato di grazia. Noi siamo abituati a concentrarci in questa settimana sulla Domenica delle Palme e poi sul Triduo Pasquale. Tu invece hai voluto valorizzare tutti i giorni di questa settimana e dici che sono un concentrato di grazia. Ci spieghi il senso della settimana? Ma l'idea è proprio questa, come tu accennavi, che effettivamente noi abbiamo un lungo tempo, che è quello di tutta l'intera Quaresima, il sacramento della conversione, come viene chiamata classicamente, tradizionalmente nella chiesa, nella liturgia, però spesso non abbiamo la calma, il ritmo, specialmente nel mondo moderno, per entrare proprio in questo ritmo della conversione, dell'ascolto della parola, delle scelte conseguenti. E ci troviamo alla fine, quasi in questo minuto, che arriviamo col fiato corto, un po' come capita tutti i giorni quando si va a messa la Domenica e si arriva che magari già il segno di croce è stato fatto. E invece, ecco, l'occasione per recuperare questa settimana, la grande settimana, la settimana più importante di tutto l'anno per un cristiano, e quella secondo, non solo secondo me, ma secondo tutta la grande tradizione in cui già vivere le liturgie rinnova completamente la nostra fede, la nostra vita, la nostra proprio visione direi del mondo, ecco che poterla vivere penetrando in quello che questi giorni ci donano, il Signore ci dona, insomma con la sua grazia, sarebbe quella che dà la sfida. Naturalmente, di nuovo, non sempre, tu dicevi il triduo, ma io penso a tante persone che conosco che anche il giovedì, anche il venerdì lavorano, e quindi si trovano al passare veramente dalla Domenica delle Palme alla, se va bene, la veglia pasquale. E allora ecco perché, in effetti, nella Domenica cosiddetta delle Palme, perché c'è la memoria dell'ingresso a Gerusalemme di Gesù, in effetti questa processione che viene vissuta nelle nostre parrocchie, anche fuori, è molto bello anche questo andare con i rami d'ulivo e le palme, poi però la grande lettura del Vangelo è tutta sulla passione, perché tante persone, lo stesso venerdì santo, non riescono a viverlo nelle liturgie. Al massimo, lo sappiamo bene, magari ci si collega la sera, tardi, si gode della Via Crucis dal Colosseo, ma non è la stessa cosa. E quindi l'idea era questa, ritrovare magari un breve tempo, se uno può, anche accompagnandosi ovviamente alle liturgie del giorno, ma anche personalmente o in famiglia, e recuperare il senso di questi giorni, cioè prendersi un tempo per sé, una sorta direi di esercizi spirituali da fare personalmente o in famiglia in questa settimana. Questa era un po' l'idea. Padre Francesco, voi in Terra Santa, dopo aver vissuto lo scorso Natale in uno stato di guerra, vi trovate a vivere anche la settimana santa nella stessa situazione? Con che spirito, in che modo? Purtroppo in Terra Santa diciamo che l'eventualità che ci siano problemi, guerre, instabilità è abbastanza frequente, quindi non è la prima volta che succede, ma questa volta succede con una carica di violenza, di morte, di odio che finora non avevamo mai sperimentato. E quindi direi che quest'anno noi sentiamo ancora di più il bisogno non solo di riascoltare, ma di rivivere quello che è il messaggio della Pasqua, il messaggio della passione morte e risurrezione del Signore. Mai come quest'anno io sento il bisogno che il Cristo in croce demolisca il muro dell'inimicizia, perché l'inimicizia qui è diventata palpabile. E mai come quest'anno sento il bisogno che il Cristo prenda su di sé tutto il male non solo del mondo inastratto, ma del mondo concreto nel quale mi trovo a vivere. E mai come quest'anno sento il bisogno che la sua risurrezione sia una vittoria sulla morte che sta diventando, ahimè, purtroppo, la cifra della notizia quotidiana. A proposito di notizie, come avete accolto il voto di ieri delle Nazioni Unite che chiede alle parti un cessate il fuoco e ad amassi il rilascio degli ostaggi? Di fatto è quello che come capi delle Chiese e anche come Assemblea dei Ordinari Cattolici di Terra Santa abbiamo chiesto fin dall'inizio della guerra, fin dall'inizio del conflitto, subito dopo il 7 di ottobre e subito dopo la reazione militare di Israele all'attacco di Hamas. Credo che siamo tra i pochi che insieme con il Papa l'hanno chiesto da subito, l'hanno chiesto prendendosi anche forti critiche da vari fronti e continuiamo a chiederlo. Quindi io quello che spero è che le risoluzioni non siano semplicemente la votazione delle buone intenzioni ma siano la premessa a un reale cessate il fuoco, a una reale tregua, a una reale liberazione degli ostaggi e anche a un reale percorso di pace con una soluzione politica per un problema che non può avere soluzioni se non di tipo politico. Torniamo alla settimana santa, tu per ogni giorno hai sottolineato un aspetto, la giornata di ieri, il lunedì, era quella del deserto che è una delle parole chiave dell'intera quaresima. Ascoltiamo Francesco sul deserto. Ma pensiamo al deserto. Fermiamoci un momento su questo ambiente naturale e anche simbolico, così importante nella Bibbia. Il deserto è il luogo dove Dio parla al cuore dell'uomo e dove sgorga la risposta della preghiera, cioè il deserto della solitudine, il cuore staccato di altre cose. È solo in quella solitudine e si apre alla parola di Dio. Lo Spirito Santo sospinge anche noi, come Gesù, ad entrare nel deserto. Non si tratta, abbiamo visto, di un luogo fisico, ma di una dimensione esistenziale in cui fare silenzio, metterci in ascolto della parola di Dio perché si compia in noi la vera conversione. Non avere paura al deserto, cercare momenti di più preghiera, di silenzio, di entrare dentro di noi. Non avere paura. Il percorso che tu proponi da vivere nella settimana santa, questa sorta di esercizi spirituali così li hai chiamati parte dal deserto nella giornata di lunedì ieri, però poi è immediatamente orientato al rendere fertile il campo. Questo è il primo passaggio da vivere in questa settimana? Di per sé inizia proprio con la Domenica delle Palme, perché è lì che inizia un po' questa settimana grande. Quindi c'è proprio prima questo sguardo generale a come Gesù entra a Gerusalemme, a come si pone a questo suo tratto di mitezza, di un re mite che abbandona a qualsiasi linguaggio di aggressività, di violenza, di quella forza, di quelle vittorie che noi decliniamo con modalità spesso brutali e vediamo che continuano a spargere semi di odio, di future violenze. Continuiamo a non capire che queste sono modalità che non possono portare frutto. E poi entrando più a livello personale nei vari giorni, soprattutto in questi primi due o tre, la proposta è quella appunto il lunedì di riflettere un po' riagganciandosi alla prima Domenica di Quaresima, che era proprio quella di Gesù nel deserto, tentato in questo spogliamento totale, per vedere qual è un po' il proprio, come dire, la propria messa a terra, chi siamo veramente eliminando le maschere, le cose diciamo buone o anche meno buone che in qualche modo si sovrappongono a noi per entrare in contatto con la verità di noi stessi, altrimenti la grazia arriva ma non ha terreno dove appoggiare. E poi appunto il giorno successivo si passa invece a dire, beh però adesso che magari ho toccato con mano anche la mia povertà, la mia debolezza, la mia meschinità, il mio deserto mi consente di fare questo, sì però verso dove sto camminando. Quindi l'idea è proporre una meta e la meta è quella di un giardino che fiorisce e qui già abbiamo un sentore di quella Pasqua, di quel giardino dove si troverà il sepolcro vuoto. Quindi è un modo per recuperare uno slancio e dire bene ma camminiamo verso una meta che ci aspetta positiva, paradiso vuol dire giardino, non lo dimentichiamo. E questa è un po' la meditazione del martedì. Dopodiché nei giorni successivi si dice bene, so da dove parto, so dove voglio arrivare o dove il Signore mi propone di arrivare con la sua grazia, come ci arrivo, qual è la strada? E allora ecco l'ulteriore passaggio è, c'è un pane che mi sostiene. Del pane parleremo tra pochissimo, restiamo invece nel deserto. Abbiamo sentito Padre Francesco il Papa dire che il deserto è il luogo dove Dio parla al nostro cuore, il deserto credo in un tempo difficile come quello che state vivendo in Terra Santa sa forse più di solitudine ma una solitudine dove si sente soltanto il rumore della guerra. Beh, di fatto il deserto oggi è una categoria più esistenziale che non fisica o geografica. tra l'altro in questo periodo il deserto in Terra Santa è bellissimo perché è l'unico periodo dell'anno in cui il deserto diventa verde e non è il deserto fatto di dune e di sabbia quello della Terra Santa, è un deserto roccioso, montagnoso, è un deserto aspro. Però appunto il deserto che noi sperimentiamo da un punto di vista esistenziale è un altro, è il deserto che vede rarefarsi le relazioni tra chi appartiene a popoli e a religioni diverse, è il deserto che vede rarefarsi le possibilità di far crescere iniziative comuni, è il deserto che vede rarefarsi anche oserei dire le sorgenti d'acqua alle quali prima tutti quanti potevano attingere insieme, anche iniziative congiunte tra cristiani, ebrei e musulmani da quando è scoppiata la guerra è molto difficile poterle proporre ed è oserei dire quasi impossibile riuscire a realizzarle eppure sarebbe ciò di cui c'è più bisogno in un momento come questo. E poi c'è un deserto che secondo me è quello che rappresenta anche la parte conclusiva del percorso della Settimana Santa che è il deserto dell'addentrarsi dentro questa terra sconosciuta che è la terra della morte, l'esperienza del morire è come entrare in un deserto perché nessuno di noi sa cosa significhi morire prima di fare in forma personale questo tipo di esperienza e lo stesso Gesù l'ha fatta inizialmente come una esperienza molto molto difficile, molto dura Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato è una citazione dal Salmo 22 ma descrive bene l'esperienza di solitudine che si fa nell'ora della morte e per fortuna direi o per grazia la Pasqua illumina questa esperienza di solitudine con una risposta che è la risposta della risurrezione che dice che attraversato il deserto della morte quello che ci aspetta non è il nulla ma è di poter vivere in Dio con la nostra umanità perché noi non andiamo a vivere in Dio come fantasmi ma andiamo a vivere in Dio Gesù Cristo risorto porta la nostra umanità a vivere in Dio quindi il deserto una volta che è stato attraversato poi diventa davvero il paradiso ma in senso pieno la vita eterna la partecipazione alla vita stessa di Dio la pienezza dell'amore la pienezza della beatitudine una esperienza che noi con la nostra fantasia pur mettendocela tutta non riusciamo neanche immaginare tra l'altro è un deserto che non passa soltanto attraverso la giornata della della morte quella del venerdì ma anche attraverso la giornata del silenzio quella del del sabato ci arriviamo tra tra pochissimo prima però parliamo del pane di cui aveva accennato manuella ma ci facciamo aiutare come sempre da papa francesco Gesù si rivela come il pane cioè l'essenziale il necessario per la vita di ogni giorno senza di lui la cosa non funziona non un pane tra tanti altri ma il pane della vita in altre parole noi senza di lui più che vivere divacchiamo perché solo lui ci nutre l'anima solo lui ci perdona da quel male che da soli non riusciamo a superare solo lui ci fa sentire amati anche se tutti ci deludono solo lui ci dà la forza di amare solo lui ci dà la forza di perdonare nelle difficoltà solo lui da al cuore quella la pace di cui va in cerca solo lui solo Gesù dà la vita per sempre quando la vita qua giù finisce è il pane essenziale della vita io sono il pane della vita riassume veramente tutto il suo essere e tutta la sua missione io sono il pane della vita lo si vedrà pienamente alla fine nell'ultima cena Gesù sa che il padre gli chiede non solo di dare da mangiare alla gente ma di dare se stesso di spezzare se stesso la propria vita la propria carne il proprio cuore perché noi possiamo avere la vita queste parole del signore risvegliano in noi lo stupore per il dono dell'eucaristia nessuno in questo mondo per quanto ami un'altra persona può dar farsi cibo per lei Dio lo ha fatto e lo fa e per noi rinnoviamo questo stupore continuando il percorso di esercizi dopo aver visto il proprio deserto capita un po' la meta tu suggerisci di concentrarci sul pane sul pane che Gesù qui c'è un accenno anche all'eucaristia alla giornata del giovedì stesso sì prima c'è proprio questo riflettere su cos'è che ci nutre per andare avanti perché se dobbiamo camminare cos'è che ci sostiene in questo cammino quindi la riflessione è un po' su questo e poi si sfocia più su quella che è la dimensione della chiesa quindi il giovedì diventa una riflessione proprio su il corpo ecclesiale per entrare poi nella vera e propria passione morte e resurrezione di Gesù e la riflessione un pochino questa no cosa nutre cosa ci sostiene e a chi noi diamo vita un po' secondo le parole anche che Papa Francesco adesso abbiamo riascoltato c'è ovviamente una riflessione tipo eucaristico è chiaro che il pane del cammino si chiama anche così il pane di vita è Gesù stesso quindi nel dono del corpo e sangue del pane e vino consacrati però c'è anche una quotidianità di questa modalità diciamo di questo nutrimento che ci raggiunge vorrei dire c'è anche una dimensione proprio molto molto concreta sempre pensando ai nostri fratelli e sorelle in terra santa la fame di pane è qualcosa di estremamente concreto e se sei spossato fisicamente è difficile sperare quindi ciò che ti sostiene magari è un cibo concreto che arriva degli aiuti dei medicinali ma anche il fatto che delle persone anche da lontano ti sostengano ti pensino che non sei dimenticato quindi anche questo diciamo un riflesso nelle nostre vite sapere che ti trovi in difficoltà o hai magari una prova da vincere da superare e che c'è qualcuno che ti è accanto che si fa accanto anche questo ci nutre e poi la parola di Dio ecco la parola di Dio che è a disposizione sempre quindi dicevamo se anche nella giornata magari non ho la possibilità di partecipare magari all'eucaristia però posso ascoltare una parola di Dio Padre Francesco abbiamo sentito il Papa dire lui ci dà la forza di amare solo lui ci dà la forza di perdonare nelle difficoltà solo lui dà al cuore quella pace di cui va in cerca che significato hanno queste parole per te e per i cristiani di Terra Santa in questo momento? Hanno un significato straordinario perché vuol dire che se non abbiamo l'orizzonte del perdono e della riconciliazione abbiamo fallito come cristiani io penso alla testimonianza che ci sta dando la piccola comunità cristiana di Gaza ad esempio che è una comunità affamata, si parlava di pane loro hanno la possibilità in questo momento di cucinare qualcosa una o due volte alla settimana sono una comunità fatta di persone che ormai non hanno più una casa propria hanno come unica casa la chiesa della Sacra Famiglia dove vivono, dove dormono, dove mangiano e sono persone che dicono che hanno sperimentato in questa situazione terribile che la loro unica casa è la chiesa e che la loro unica speranza è Gesù Cristo che la loro unica condizione sicura è quella in cui si sentono sotto la custodia, la protezione nella mano benevola di Gesù Cristo che ha dato la vita per noi quindi è un qualcosa di estremamente concreto nell'esperienza di chi sta soffrendo a causa della guerra qualcosa di simile per chi vive a Betlemme Betlemme vuol dire la casa del pane e la gente è senza lavoro quindi senza pane però devono, e noi cerchiamo di insistere in questo, devono riuscire a tenere il cuore libero dall'odio, libero dal risentimento, libero dal desiderio a loro volta di vendicarsi e devono trovare nella relazione con Gesù Cristo condivisa a livello comunitario e oserei dire condivisa a livello universale una forza ulteriore per non lasciare questa terra e quindi per non lasciare quella che è la propria vocazione perché chi è nato qui è nato qui perché il Padre Eterno lo ha fatto nascere qui e gli ha probabilmente anche affidato un compito per questa terra così difficile, così complessa così da sempre tormentata ma così amata da Dio al punto di sceglierla come luogo della propria incarnazione e della propria donazione non abbiamo più tempo ma un'ultimissima cosa in pochi secondi venerdì nelle celebrazioni i soldi che saranno raccolti andranno proprio in Terra Santa la colletta di Terra Santa, quanto è importante per voi anche questo aiuto concreto che viene dalle altre chiese? la colletta del venerdì santo per noi è un aiuto essenziale senza la colletta del venerdì santo non riusciremmo a vivere concretamente non riusciremmo a portare avanti le opere pastorali e men che meno le opere sociali la colletta di Terra Santa è un modo concreto, ordinato di vivere l'esperienza della comunione, della condivisione non a parole ma da un punto di vista anche economico grazie davvero padre Francesco, grazie Emanuella Buccioli appuntamento a domani come sempre a 17.30 buona serata